Bene. Ed è la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio, Espirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre a me. Grazie. 30 euro le mazze davanti, 50 le mazze davanti, 150 le mazze davanti, 150 le mazze davanti, mettetevi sotto. 30 euro le mazze davanti, 150 le mazze davanti, 50 dietro, 300 le mazze davanti, 150 le mazze davanti, 100 dietro. Sono tantissimi anni che è iniziata, che continua andando avanti sempre meglio, sicuramente. 400 le mazze davanti, 200 dietro? Il significato è tra il sacro e il profano, sicuramente, perché in effetti non è sicuramente dal punto di essere religioso una cosa bella mettere all'asta la Madonna. Però, già che è una tradizione, noi cerchiamo di mantenerla sempre. 450 le mazze davanti, 200 dietro. Allora, facciamo l'ultima chiamata. 450 le mazze davanti, 200 dietro. 450 davanti, 200 dietro è 1. 450 davanti, 200 dietro è 2. Non mi preoccupare, 450 davanti, 200 dietro è 3. A posto. ua. 150 dietro è 61 di golf. 50 dietro è una un'unica chiamata. 500 dietro è di un'eità piиру. 450 dietro è di un'eità piatta. , 250 dietro è di un'eità piatta. 250 dietro è di un'eità piatta. Bene, è di un'eità piatta. È di un'eità piatta. Grazie.